Vieni a fare sport gratis per un anno a Rimini. Al quartiere 5 puoi praticare la tua disciplina preferita e attività motorie senza limiti di età, livello, abilità per un anno intero grazie al bando sport e salute. Rimini Rugby, società capofila con PGS Rimini e il Comune di Rimini ti aspettano da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 al campo di Rivabella. Scopri di più su www.riminiregby.com